Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e nella lezione di oggi andremo a vedere i solidi di rotazione. In particolare ne vedremo due, vedremo il cilindro e il cono. Abbiamo già introdotto l'argomento dei cosiddetti solidi rotondi quando abbiamo cominciato a parlare della geometria solida. Oggi vedremo come all'interno dell'insieme dei solidi rotondi si può identificare tutti insieme dei cosiddetti solidi di rotazione. Ovvero solidi, come vedremo, generati dalla rotazione di una figura piana intorno a un'asse. In particolare vedremo il cilindro e il cono, anzi per essere più esatti, il cilindro retto e il cono retto. Vedremo come identificarne le varie parti. E poi chiaramente questo sarà un obiettivo che cercheremo soprattutto per studiare in classe. Vedremo come si può, a partire da un rettangolo o da un triangolo rettangolo, disegnare la figura di rotazione che essi possono generare. Quindi proprio dati le dimensioni di un rettangolo, dimensioni di un triangolo rettangolo, a vedere che tipo di cilindro, che tipo di cono possiamo andare a cercare. Per capire meglio quello di cui stiamo parlando vediamo due esempi della vita reale. Supponiamo che sia Halloween e abbiate una di quelle decorazioni a forma di zucca, no? Che si costruiscono a partire da una serie di elementi di carta o di cartone aventi questa forma, no? Vedete, a tutti gli effetti questo non è altro che una linea, no? Una linea piana che volendo noi possiamo far ruotare intorno a questo asse verticale che vedete qui tratteggiato. E se lo faccio ruotare completamente, ovvero facendo di fare una ruotazione di 360 gradi in un angolo giro, vado a costruire, come vedete qui, una figura tridimensionale, una superficie tridimensionale che chiameremo una superficie in rotazione. Chiaramente questa è solo un'approssimazione perché in realtà questo oggetto si apre a ventaglio, quindi ha delle parti più interne e più esterne, però se immaginate questa superficie come liscia, questo è esattamente quello che ottengo, no? Ho questa linea piana, la faccio ruotare e ottengo una superficie di rotazione. Un esempio simile si può ottenere per esempio con un libro. Se io prendo un libro, per esempio, di solito questo esempio funziona bene con i libri con la costola rigida, se prendo un libro e lo apro in modo che le due parti delle copertine vadano a formare un piano, quindi apriamo il nostro libro a 180 gradi, se giochiamo un po' con le pagine possiamo ottenere questo effetto un po' a ventaglio e che un po' ci dà già l'idea di cosa succede se io prendo appunto una superficie, come può essere il caso della pagina del nostro libro, e la faccio ruotare, in questo caso non gli sto facendo fare una rotazione completa, ma solo una rotazione di 180 gradi, ma vado a generare un solido di rotazione. Questo in pratica è un semicilindro, no? Perché ho preso un rettangolo e l'ho fatto ruotare intorno a un'asse, questo asse qui, di 180 gradi. Quindi a partire da una linea, quindi un oggetto unidimensionale, con una rotazione ottengo un oggetto che è una superficie, da una superficie posso ottenere un solido. Possiamo quindi venire ad alcune definizioni, quindi come definiamo le superfici solide di rotazione? Una superficie di rotazione è appunto la superficie generata dalla rotazione, sottinteso completa, di una curva piana attorno ad un'asse. Quindi vedete per esempio un caso, no? Abbiamo questa forma un po' a S che ruota intorno ad un'asse e va a formare questa forma a vaso. I soli di rotazione invece sono generate dalla rotazione di una superficie piana attorno ad un'asse, che poi chiaramente sarà questo il caso che noi andremo a studiare da qui in avanti. E cominciamo con il primo dei soli di rotazione che andremo a studiare nel corso di quest'anno, ovvero il cilindro. Per essere più precisi, il cilindro circolare retto, che però d'ora avanti chiameremo semplicemente cilindro. Allora, il cilindro è normalmente, non è questo l'unico modo di generarlo, ma è normalmente generato dalla rotazione di 360 gradi, quindi di un angolo giro, quella che si chiama una rotazione completa, di un rettangolo, come vedete qui disegnato, attorno a un suo lato. Cioè, io prendo un rettangolo, scelgo come asse una retta che vada a coincidere, vada a passare da uno dei suoi lati, e lo faccio muovere intorno a questo lato, un po' come le pagine del libro che abbiamo visto prima, e vado a produrre, vado a coprire uno spazio che noi chiameremo cilindro. In realtà, questo non è l'unico modo in cui posso generare un cilindro, potete immaginarvi, ad esempio, un rettangolo, per esempio, più grande, e invece di farlo ruotare intorno a uno dei suoi lati, possiamo farlo ruotare intorno a un asse che passi in mezzo al nostro rettangolo. A questo punto, però, la rotazione necessaria per generare il cilindro non sarà più di 360 gradi, ma basterà una rotazione di 180 gradi. È importante capire a questo punto quali sono le parti del nostro cilindro. Allora, intanto, è importante capire le corrispondenze tra le dimensioni del rettangolo che abbiamo utilizzato per generare il nostro cilindro e le dimensioni del cilindro stesso. Se noi andiamo a considerare il lato del rettangolo attorno a cui abbiamo effettuato la nostra rotazione, è ovvio che questo lato andrà a costituire l'altezza del nostro cilindro, e che qui indico con H. Quindi, il lato attorno a cui avviene la rotazione diventa l'altezza del cilindro. L'altro lato, l'altra dimensione del rettangolo, non è altro a questo punto che il raggio del cerchio di base. E come vedete qui, l'ho indicato con R. Ecco, come già abbiamo visto nel caso dei prismi, quindi anche dei parallelepipedi, il cilindro è un solido caratterizzato da due superfici piani, due cerchi in questo caso, che sono paralleli e congruenti. Quindi, le basi di un cilindro sono, e questo non dovrebbe essere una sorpresa, visto che stiamo parlando di solido rotazione, sono due cerchi, e li ho evidenziati qui e qui. La parte rimanente del nostro cilindro è la cosiddetta superficie laterale, che a questo punto, al contrario di quello che succedeva per i poliedri, non sarà costituita da poligoni o da più superfici in sé, ma da un'unica superficie curva, che poi è il criterio in base al quale noi diciamo che un oggetto non è un poliedro, ma è un solido rotondo, che contiene uno o più superfici curve. L'altro solido di rotazione che studieremo quest'anno è il cono, che in realtà è il cono circolare retto, così come abbiamo visto prima, si parlava di cilindro circolare retto, ora parleremo di cono circolare retto, tuttavia, visto che è l'unico tipo di cono che andremo a studiare quest'anno, lo chiameremo semplicemente cono. Come vado a produrre un cono? A questo punto, invece, prendo un rettangolo, prendo un triangolo rettangolo, vedete qui, disegnato in arancione. Questo triangolo rettangolo lo faccio ruotare per un'asse che passa per uno dei suoi cateti. eccolo qui. Di nuovo, prendo questo triangolo, lo faccio ruotare intorno ai suoi cateti di 360 gradi, quindi di nuovo una rotazione completa, vado a generare una figura che appunto si chiamerà cono. E come già abbiamo fatto per il cilindro, è importante vedere la corrispondenza tra le parti del triangolo rettangolo che abbiamo usato per generare il nostro cono e gli elementi del cono stesso. Ora, nel caso del triangolo rettangolo noi abbiamo i tre lati, i due cateti e le ipotenuse e tutti e tre saranno importanti per il nostro cono perché esattamente come era successo per il cilindro, il lato, in questo caso il cateto attorno a cui abbiamo ruotato la nostra figura per ottenere il cono diventerà l'altezza del cono, quindi di nuovo lo indico con la lettera A. l'altro cateto quello che forma con l'altezza un angolo di 90 gradi andrà di nuovo a costituire il raggio di base del nostro cono. Quanto all'altro lato in particolare in questo caso si tratta dell'ipotenusa del nostro triangolo rettangolo questo andrà a costituire l'apotema del cono e a questo punto questo nome vi dovrebbe dire qualcosa perché abbiamo già incontrato l'apotema quando studiavamo la piramide ed in effetti di tutti i poliedri quello che ha delle formule che più si avvicinano anzi qualche volta sono identiche a quelle del cono è proprio la piramide come la piramide il cono non ha due base ma un'unica base eccola qui è chiaramente nuovo un cerchio un cerchio di raggio R come abbiamo già visto e poi ha di nuovo una superficie curva che costituisce la sua superficie laterale vi anticipo già una cosa che andremo a vedere tra un paio di lezioni questa superficie laterale è una forma un po' particolare perché se noi facciamo lo sviluppo piano del nostro cono vedremo che questa superficie laterale è un settore circolare non è un triangolo non è un rettangolo ma un settore circolare nelle prossime lezioni vedremo come trovare l'area il volume di cilindri e coni vedremo come studiare problemi diretti problemi inversi ma per oggi è tutto arrivederci da Mr. Boscherini grazie a tutti